La votazione è chiusa. Presenti 422, votanti 354, astenuti 68, maggioranza 178, foro di 267, contrario 87. La Camera approva. Aggiuntivi identici 10.01, 10.02, il primo a prima firma Paglia, il secondo Pastorelli. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere... Allora, anche, scusate, il 10.04, il 10.0400 e il 10.06 sono tutti identici e c'è il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e quello favore del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Ci siamo? Locatelli, Luigi Gallo, ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 408, astenuti 9, maggioranza 205, favori 114, contrario 294, la Camera respinge. 10.08, Fantinati, se non ci sono richieste di intervento, parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza, votazione aperta. Siamo? Brescia. Fossati, votanti. Brescia, ci sei? No. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 416, votanti 414, astenuti 2, maggioranza 208, fori 115, contrario di 299, la Camera respinge. Abbiamo ora gli identici 10.09, 10.0401. Il primo a prima firma Paglia, il secondo a prima firma Colletti. Nessuno chiede di intervenire. Parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Placido. Placido. No, non tocca la testa, non è Placido, tanto ci pensiamo noi. No. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 395, astenuti 29, maggioranza 198, fori 114, contrario di 281. La Camera respinge 10.010 all'Asia. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Abbiamo dato tutti? No. Fossati, Fanucci, Lainati. Ok, la votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 393, astenuti 31, maggioranza 197, fori 117, contrario di 277. La Camera respinge. 10.011 Colletti. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Grazie. Grazie. Abbiamo dato tutti? Librandi. Brignone. Brignone. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 423, votanti 418, astenuti 5, maggioranza 210, favorevole 118, contrario di 300, la Camera respinge. Identici 10.012 Paglia, 10.013 Vignali. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Polverini. Marti. Marti. Brignone. Brignone. Rabbino. Siamo alla fase di ricerca della testa, non è il rabbino? La vedo dura. La votazione è chiusa. Presenti 430, votanti 425, astenuti 5, maggioranza 213, favorevole 119, contrario di 306, la Camera respinge. 10.014 Paglia, parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Siamo palese. Morani, Tancredi, Grassi, Palma. Provi a votare, non è Palma. Dottavio. Dottavio. Ok. La votazione è chiusa. Presenti 432, astenuti 4, maggioranza 215, favorevole 116, contrario di 312, la Camera respinge. Siamo agli identici 10.015 Luigi Di Maio e 10.016 Luigi Di Maio. Ho sbagliato. È solo il 10.015 Luigi Di Maio. Poi votiamo l'altro. Parere contrario, relatori di maggioranza del Governo, favorevole relatori di minoranza. Ci sono altri che intende intervenire? No, la votazione è aperta. Siamo? No, la Tuga. La votazione è chiusa. Presenti 426, votanti 423, astenuti 3, maggioranza 212, favorevole 118, contrari 305, la Camera respinge. 10.016 Luigi Di Maio, anche in questo caso, parere contrario, torri di maggioranza del Governo, favorevole relatori di minoranza. Se nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Ci siamo? Ferranti, Grassi, altri? La votazione è chiusa. Presenti 421, votanti 419, astenuti 2, maggioranza 110, favorevole 117, contrari 302, la Camera respinge. Siamo all'11.1, paglia. Però prima di questo chiediamo i pareri sull'11 alla relatrice. Signor Presidente, i pareri agli emendamenti dell'articolo 11 sono tutti contrari. Grazie, onorevole all'Asia. Grazie Presidente, l'emendamento 11.1, favorevole, 11.2, contrario, 11.3, identico 11.4, favorevole. 11.4 è ritirato. Va bene, quindi questo è favorevole. Allora, 11.1, paglia, se nessuno chiede intervenire, il Governo, pure lei. Conforme, Presidente, al relatore di maggioranza. Grazie, scusi, 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 conforme al relatore di maggioranza. 11.1, paglia, con il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e quello a favore del relatore di maggioranza. Questa è la votazione aperta. Murer. Colonese. Murer, provi? Ok. Colonese ha votato? Sì. Bene, altri? Ghizzoni. Piazzoni. Ah, Piazzoni. Ha votato?